Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo al capitolo 15, all'inizio degli Atti degli Apostoli ovviamente. Ora alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli, se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Quindi c'è un aspetto presente e ritornante, diciamo così, chiaramente nell'area giudea, che è quello che dobbiamo rispettare le nostre tradizioni. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano, e Paolo voglio dire giudeodoc, e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli Apostoli e dagli Anziani per tale questione. Quindi c'è un'importante questione di metodo. Ci sono dei dissensi, alcuni giudei dicono devono farsi circoncidere, Paolo e Barnaba dissentono e discutono animatamente, ma c'è un metodo, dobbiamo parlare. Quindi nessuno ha ragione. Dobbiamo discutere, dobbiamo invocare lo Spirito Santo, dobbiamo parlare, e questa cosa qua è sempre fondamentale. Perché? Perché nelle nostre comunità succedono spesso queste cose qua, no? Che si possa discutere, che qualcuno abbia delle opinioni diverse. Discutiamone, discutiamone, dicono loro, Paolo e Barnaba devono salire a Gerusalemme, cioè devono andare a confrontarsi con gli Apostoli. Per noi gli Apostoli in carne d'ossa non ci sono più, dobbiamo confrontarci con la parola, con la testimonianza della parola. E poi confrontarci e discernere, scegliere, ecco. Essi dunque, provveduti del necessario, dalla Chiesa, anche questo è un aspetto piccolissimo ma interessante, partono ed è la Chiesa che provvede a questo viaggio. Come abbiamo visto dall'inizio, che mettevano i beni in comune, loro non hanno proprie risorse, ecco. Quindi è la Chiesa che paga, diciamo, questo viaggio. Ma non è solo questo aspetto qua. È la Chiesa che paga le spese perché all'interno della Chiesa stessa si dialoghi, ci si confronti e ognuno non vada per conto suo, no? Ed è un aspetto, appunto, molto interessante perché poi l'abbiamo perso, perché poi abbiamo cominciato ad inquisire le persone, non a pagare loro le spese perché venissero a discutere, capite? Attraversarono la Fenice e la Samaria raccontando la conversione dei pagani, suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli, dagli anziani. Riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo di loro. Intanto arrivano e dicono, ragazzi, Sì, i fatti sono questi. Per mezzo di noi, come lo sto ripetendo in questi giorni, c'è la parola, c'è lo spirito, c'è Dio, ma per mezzo di noi Dio ha fatto grandi cose. E poi vedremo cosa accadrà. Le cose belle della giornata di ieri? Beh, ieri mi è capitato, siccome dovevo fare un video per alcune famiglie dei campeggi, di rivedere un po' di foto del periodo estivo e quindi mi fa sempre piacere vedere semplicemente le facce dei bimbi e poi dei video che ci riportano lassù e che ci riportano alla prospettiva di questa prossima estate. Dialoghiamo, confrontiamoci, proviamo a discernerla alla luce della parola. Ale, buona giornata a tutti voi!